John Borno ragazzi, John Borno, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Insomma, ho visto parecchia gente infervorarsi, arrabbiarsi, incazzarsi, ditelo un po' come vi pare, per le parole di Immobile che avrebbero parlato di arbitraggio tutt'altro che corretto in Milan-Lazio, soprattutto in occasione del fallo che viene fatto su di lui, in cui lui poi deve uscire, definendo gli arbitri una banda di incompetenti. Sostanzialmente questa è la lettura che si dà poi alle parole di Immobile che per molti sono state inaccettabili anche a fronte del fatto che la Lazio abbia preso 4 bombe, abbia preso 4-0 in una delle serate probabilmente più difficili che io ricordi della Lazio in generale, anche perché poi la Lazio, lo dico sempre, è una squadra che getta il cuore oltre l'ostacolo ogni volta che gioca la Coppa Italia, quindi tutti, chi più o chi meno, ci aspettavamo comunque una grande prova, non per forza che avrebbe portato magari ad un passaggio di turno della Lazio, però quantomeno una grande prova, e la grande prova non c'è stata. Ma andiamo per gradi. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale, lasciare tantissimi mi piace e scaricare OneFootball. Se non l'avete fatto, trovate il link in descrizione, avrete anche la possibilità di scaricarla tramite il codice QR, il QR code, avrete la possibilità di prendere il vostro dispositivo cellulare, inquadrare il QR code e andare direttamente a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Di meglio non ce n'è, la trovate in descrizione oppure appunto scannerizzando il QR code. Allora, vi dicevo, ho visto parecchie polemiche. Io di base, credo che tutto sommato le polemiche siano semplicemente collegate al fatto, anzi le parole di Immobile siano semplicemente collegate al fatto che si trattava in quel momento esatto di un calciatore comunque frustrato, comunque tutt'altro che felice perché vedeva la sua squadra essere fatta a brandelli. perché lui usciva per infortunio, tra l'altro quando per me esci per infortunio provocato da un giocatore avversario e non ti fischiano fallo, ti sale doppiamente il veleno e quindi è una reazione che a mio modo di vedere è anche abbastanza giustificata in quel frangente lì. Poi non credo che Immobile volesse dare la colpa all'arbitraggio della partita perché lì c'è poco da fare, la l'Asia è stata annichilita sotto ogni punto di vista e quindi questo è, cioè l'arbitraggio è una cosa secondaria che non rientra nemmeno in realtà in quello che è stato poi il match. Dall'altra parte però c'è il Milan e del Milan dobbiamo parlarne sottolineando più e più volte ripetutamente la grande gara del Milan perché se l'Inter domina la Roma per, non dico 90 minuti ma 70 buoni e vince regolandola ed eliminandola non con tantissimi patemi, giocando una buona gara comunque il Milan distrugge la Lazio e si qualifica al derby, al doppio derby della semifinale quindi avremo due derby circa in una settimana in bocca al lupo ai tifosi di Milan e Inter con un biglietto da visita importante, con un biglietto da visita che permette al Milan, non dico di partire da favorito perché per me sulla carta, per le squadre, per le disposizioni parte sempre un filino più avanti l'Inter anche se molto poi passerà da Inter-Liverpool perché se poi l'Inter esce dalla Champions non so ok ma se l'Inter va avanti con il Milan fuori dalle coppe c'è possibilità che l'Inter risenta anche dell'impegno europeo, del triplo impegno eccetera. Fatto sta che però se prima vi dicevo guarda per me a parte il derby è imprevedibile, però se avessi dovuto tirare le somme vi avrei detto tipo 55-45 Inter ad oggi devo darvi una piccola percentuale di possibilità di passaggio da parte dell'Inter per qualche singolo importante dell'Inter perché per me come rosa totale nei 25 l'Inter resta comunque sopra il Milan vi dico 51-49 perché poi il Milan di Pioli ha dimostrato di fare assolutamente seriamente per la Coppa Italia e lo ha fatto vincendo, ma che dico vincendo, stravincendo sarebbe più corretto dire stravincendo il match contro la Lazio il Milan di ieri ragazzi ha annichilito la Lazio ritrovando Giroud con la doppietta fondamentale con il gol di Chessy che tra l'altro torna al gol Chessy, ora ne parleremo nel dettaglio e poi ovviamente con la prima rete, quella di Leao che per me resta il migliore in campo però lo so che lo state aspettando e allora ve lo dico, ve lo faccio papapapapagelle, facciamo le pagelle, un po' piano se no la gente mi mena a quest'ora pagelle ragazzi, pagelle, pagelle, pagelle allora, tra l'altro parleremo di Leao nelle pagelle oggi probabilmente alle ore 17.35 sul mio altro canale Simone Siqual uscirà un video dedicato a Leao, una top 10 su Leao e quindi mi raccomando rimanete sintonizzati perché a quell'ora esce la top 10 partiamo dalle pagelle della Lazio Reina 5 Reina 5 prende 4 gol, quindi il 5 non dico che sia un regalo ma poco ci manca diciamo che non ha tante colpe in realtà, fa una bella parata solo 0-0 se non vado errato poi però prende 4 gol quindi non posso dargli una sufficienza però non credo che sia il più grande colpevole della debacle della Lazio e quindi gli do 5 a Patrick gli do 4.5 balla, 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 dove si balla na 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 na, balla praticamente questo è quello che fa Patrick, non ci capisce niente forse addirittura, non capendoci niente, prendendo 4.5 nelle mie pagelle è quello che fa un pochino di più rispetto agli altri quindi figuratevi gli altri Luis Felipe 3.5 ma assolutamente 3.5 colpa sua solo 1-0 perché è lui che si perde le au ma ha tante altre colpe una colpa gigantesca secondo me è quella anzi due colpe la prima è quella del cartellino giallo che prende immediatamente e che gli condiziona tutta la partita la seconda è quella che fa è la mancanza perché in una difesa con Isai, Marosic, Luis Felipe e Patrick quindi con la mancanza di Acerbi Luis Felipe doveva dimostrare di poter essere il leader e invece per me è affondato con tutta la nave addirittura forse ha sbagliato il posizionamento in nave e ha fatto sì che la nave affondasse più rapidamente è stato principale colpevole dell'affossamento navale e quindi Luis Felipe che doveva essere un leader è stato tutto fuorché un leader sulle due fasce da 2-4 ad Isai e a Marosic male 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 allora nell'1-0 di Leao c'è colpa anche di Isai ma soprattutto è vero che su quella fascia il Milan è clamoroso lo sappiamo sulla fascia sinistra ragazzi il Milan tra Teo Hernandez e Leao non fa capire nulla a chi c'è di fronte e spesso calciatori con caratura più importante di Isai faticano comunque Isai non ci ha capito nulla ogni volta che Teo o Leao volevano fare qualcosa lo facevano tranquillamente come se di fronte non ci fosse nessuno mezz'ora la gioca Lazzari al quale do 5 fa un pochino meglio rispetto Isai ma sostanzialmente non fa bene nemmeno lui dall'altra parte vi dicevo 4 a Marosic allora diciamo che se Leao è un giocatore di velocità oltre che di qualità Messias fa più della qualità la sua arma migliore e non è che ogni tanto lo vediamo anche sprizzare ma poco e invece Marosic lo ha fatto sembrare anche molto molto veloce quasi come se fosse un Leao inoltre a Marosic si chiedeva appunto la capacità di offendere oltre che difendere non solo ha difeso da cani ma ha offeso molto poco secondo me Cataldi 4 doveva essere il giocatore che faceva filtro davanti alla difesa invece il centrocampo è completamente mancato anche per colpa sua se non soprattutto per colpa sua tra i peggiori in campo e probabilmente quello che gli manca è anche la cattiveria agonistica se vedi che la partita è andata in un certo modo tiri fuori le palle e inizia a menare calcisticamente parlando non l'ha fatto 4 e mezzo Luca Sleiva che sbaglia sul gol del 4 a 0 anche se ormai era fatta ma quantomeno do mezzo punto in più rispetto che Cataldi perché? perché entra che la partita era sul 3 a 0 quindi sostanzialmente c'era poco da dire e dall'altra parte perché comunque l'ho visto un po' più cattivo almeno questo però insomma 4 e 4 e mezzo siamo lì do 5 a Milinkovic e Savic che forse è uno dei pochi che non dico si salva però quantomeno non è vergognoso e si vede che comunque è un giocatore di qualità prima di tutto quando c'è la palla tra i piedi è difficile togliergliela però comunque al Milan è bastato sostanzialmente mettere a uomo un giocatore su Milinkovic anche un paio appena stoppava il palone ci andavano in 2-3 lo bloccavano, lo braccavano e questa è una conseguenza del fatto che il centrocampo della Lazio non abbia girato per niente Basiz 4 veramente allora ricordo che ogni palone alto è stato praticamente è stato intercettato ogni palone basso lo stoppava non faceva in tempo e arrivava un giocatore del Milan a 200 km a togliergli il pallone nelle possibilità offensive si perdeva io penso che Basiz abbia fatto una pessima partita al suo posto entra Luis Alberto che gioca il secondo tempo ma erano già sul 3-0 e a Luis Alberto 5 glielo do diciamo che anche lui insomma la qualità ce l'ha si vede ce la mette tutta però anche Luis Alberto non è che abbia poi cambiato così tanto il futuro della partita per quanto riguarda le due fasce uno di questi è il migliore in campo ovvero Zaccagni al quale do 5,5 non è ottimo però secondo me quando la Lazio crea qualcosa per quel poco che crea la crea Zaccagni e quindi 5,5 glielo do non do nemmeno una sufficienza ve lo dico chiaramente una squadra che perde 4-0 quando doveva da cupione giocarsela alla pari non merita una sufficienza però 5,5 che gli fa almeno parare il culo Felipe Anderson 4,5 allora diciamo anche che per via del fatto che dovesse magari abbassarsi un po' per dare una mano dietro visto che Milan ha offeso tanto Anderson è sparito in fase offensiva e ha aiutato in fase difensiva però ha fatto cagare in entrambe le fasi e quando entra Pedro io do 5 anche Pedro non è che faccia granché sì magari in rapidità delle volte riesce a mettere in difficoltà il Milan autolanciandosi però finisce là Ciro Immobile 5 vabbè al di là del discorso finale esce facendosi male non so in questo momento cosa si sia fatto fatto sta che è abbastanza impassibile sotto porta gli arrivano anche pochi palloni questo lo devo ammettere e quelli che gli arrivano non sono buoni però comunque non fa una gran gara Raul Moro 5 gioca 20 minuti ma nemmeno si aspettava di dove entra lo buttano nella mischia e questo fa Maurizio Sarri 4 e mezzo perché 4 anzi perché la difesa alta è una sua idea una difesa alta pessima un'idea pessima tra l'altro per una difesa inguardabile perché mancava anche Acerbi e quindi non capisco perché la Lazio ha più giocato sinceramente una difesa altissima sbaglia come prepara la squadra sbaglia tutto la Lazio non tira mai in porta e molte colpe sono di Maurizio Sarri dall'altra parte facciamo le pagelle del Milan ovviamente qua è molto più sorriso molto più sorriso Maignan 6 e mezzo guardate oltre un'ottima uscita su Ciro Immobile che tra l'altro chiede non lo so i commentatori hanno anche provato a dire ma è calcio di rigore ma in realtà non si è lamentato nessuno manco immobile quindi figuratevi quanto potesse essere per calcio di rigore Maignan non viene mai impegnato quindi io gli do 6 e mezzo ma potrei dargli anche 7 nel senso viene chiamato una volta in causa e quella la fa benissimo come vi dicevo se per la Lazio tutti i voti molto bassi per il Milan andrò tutti i voti molto alti hanno vinto 4 a 0 un quarto di finale di Coppa Italia se lo meritano Calabria 7 lui ha il cliente un po' più difficile rispetto agli altri perché se avete visto appunto i pagiari della Lazio ho dato un voto abbastanza discreto a Zaccagni non 5 e mezzo non altissimo 5 e mezzo però è abbastanza discreto quindi lui ha il cliente un po' più difficile però lo tiene a bata quindi il 7 glielo do 7 e mezzo lo do a Tea Fernandez allora partendo dal presupposto che è lui che fa monire Luis Felipe e quindi Luis Felipe poi si fa tutta la partita col cartino giallo sul groppone e quindi conseguenza di una situazione di cui ho parlato già per quanto riguarda la Lazio è lui che fa l'assist che chiude definitivamente la partita del pallone al centro sul movimento di Leao lui dà il pallone dentro per il gol di Giroud e quindi si fa vedere ed è importante e poi è importante in generale i due centrali do 7 e mezzo a Romagnoli perché ragazzi dà un pallone fantasmagorico veramente io non so alla Playstation col joystick col joypad l'ha dato per l'1-0 di Leao e poi sì ok ogni tanto in difesa magari qualche sbavaturina la fama niente di trascendentale niente di come posso dire niente di così tanto esasperante alla fine è un 7 e mezzo che ci sta 7 lo do anche a Calulù che si mette vicino a Romagnoli non fa errori non overperforma però una squadra che vince 4 a 0 parte da una base media di 7 e quindi lui prende secondo me un voto di base media a proposito di media in mediana c'era Tonali 7 e mezzo io veramente credo che lui sia migliorato tantissimo magari farò anche una top 10 su di lui in cui più avanti parleremo di quanto è migliorato Tonali rispetto allo scorso anno dove sembrava un calciatore in estrema difficoltà quest'anno sì si può avvicinare molto ad Andrea Pirlo lui ha anche la cazzimma di recuperare tanto tanti palloni di fare appunto il lavoro di ricostruzione di centrocampo oltre poi di interdizioni di farlo anche di costruzione perché poi lui ha anche la visione offensiva e è forte 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 7 e mezzo 7 e mezzo lo do anche a Chessy che invece fa stavolta una partita veramente buona ci prova un paio di volte già sullo 0 a 0 se non sbaglio aveva chiamato Reina al miracolo e poi trova il gol del 4 a 0 che è un po' chiude il cerchio diciamo che dopo la partita fatta nel derby che era tutto forche buona si è rimesso un po' in pari con la gara con la gara di ieri sera Bennazer 7 Bennazer 7 entra al posto di Tonali mi ero dimenticato di dirvelo gioca il secondo tempo e lo gioca bene quindi tutto sommato la buona gara la fa e poi Messias Messias gli do 7 non male non male anche la gara di Messias non fa non overperforma anche lui fa una gara normale però è una gara normale dove come vi dicevo va a mettere in difficoltà il suo avversario e è apparso anche a livello di velocità importante imponente al suo posto entra Selemeker gioca mezz'ora 6 e mezzo ecco forse Selemeker è quello che mi ha colpito un po' meno vabbè però non fa nulla di eccezionale però quello che deve fare lo fa e quindi va bene così trequartista Brian Diaz do 6 e mezzo Brian Diaz è forse il peggiore in campo del Milan è quello che mi piace meno è vero che è quello che mi piace meno è quello che mi piace meno nella gara di ieri perché sapete a me Brian Diaz fa impazzire allora davanti quelli che fanno bene sono Giroud e Leao e adesso ne parliamo però Brahim e Messias fanno un po' meno Messias almeno qualche volta si fa vedere Brahim non lo ricordo e se non ti ricordo in un 4 a 0 sei il trequartista insomma non hai fatto un'ottima gara comunque 6 e mezzo Leao 8 e mezzo migliore in campo ve l'ho detto ragazzi cioè non ci hanno capito niente dietro Luis Felipe Peisai Patrick non ci hanno capito nulla l'1 a 0 è il suo il 2 a 0 è un suo assist il 3 a 0 fa un movimento dentro che smarca De Hernandez che poi va a cercare al centro Giroud per il gol del K.O a fine primo tempo fa una partita straordinaria 8 e mezzo e per distacco migliore in campo oggi ore 17 e 35 mettete la sveglia perché parliamo sul mio altro canale Simone Sickolf di Leao Giroud altra doppietta importante fondamentale e altra doppietta che simboleggia quanto sia in crescita un calciatore come Giroud al Milan e quanto possa essere fondamentale se inizia a segnare con così tanta costanza fa due gol in 5 minuti di nuovo centra avanti assolutamente da rapace rapace d'area di rigore 8 Rebic centra partita in corso 6 e mezzo ha fatto mezz'oretta ma doveva mettere minutaggio sulle gambe quindi quello che doveva fare l'ha fatto Stefano Pioli dò 8 tanta roba tanta roba Milan veramente potrebbe dare anche 8 e mezzo abbiamo 8 e mezzo 4 a 0 3 a 0 a fine primo tempo nel secondo anno contenuto non è mai stata secondo me non c'è tutta questa differenza tra Milan e Lazio cioè il Milan è molto superiore alla Lazio ma non da 4 a 0 con 3 a 0 a fine primo tempo quindi prima sarebbe aspettato piuttosto che ne so se il Milan 2 vince facile 1 a 0 a fine primo tempo e un 2 a 0 a fine un po' Inter-Roma ok la distanza più o meno è quella Inter-Roma Mila-Lazio la distanza è quella 4 a 0 con 3 a 0 a fine primo tempo e nel secondo il Milan che gestisce accompagna la Lazio alla porta significa veramente che hai distrutto il bianco celeste e quindi gli do 8 e mezzo a Stefano Pioli queste ragazzi erano le pagelle fatemi sapere la vostra mi raccomando con un commento qua sotto iscrivetevi al canale se non l'avete fatto io vi ringrazio per aver visto i suoi video mi lascio tantissimi mi piace buonasera non l'alene come sempre ci vediamo al prossimo video